Allora, prima di iniziare con la recensione di oggi, vi ricordo che sul sito di Pamplink, trovate linkato, scusateci sotto, è iniziato il Black November, questo mese ci saranno un sacco di offerte, fino a domani trovate l'offerta per cui se prendete due felpe le pagate solo 31,90€, in sua impressione vi metto le felpe con le stampe più carine, secondo me, al momento disponibili in catalogo, e se volete avere uno o più di questi prodotti, sia le felpe in offerta, sia qualunque altro prodotto del catalogo, Potete aggiungere a vostro acquisto un paio di calze a vostra scelta, e se usate il codice VILASZLO, le calze non le pagate, poi vi ricordo che sul canale YouTube di Cultura Pop sono usciti due unboxing degli ultimi giorni, che ho registrato direttamente a Lucca dallo stand di Hasbro, che sono l'unboxing del cubo gelatinoso di Dungeons & Dragons del film che uscirà a marzo, che è una cosa che non esiste ancora in Italia, quindi è un prodotto esclusivo, e anche del Tesseract dalla serie Loki, con tanto di figure di Loki esclusiva all'interno, quindi se vi interesse trovate i link in descrizione qui sotto, e se volete supportare il progetto degli unboxing sul canale Cultura Pop, potete anche solo iscrivervi al canale e lasciare un like ai video. Detto questo, bandone e ciao, ci iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla! Allora, finalmente sono tornato, vi chiedo scusa se negli ultimi giorni il canale è rimasto un po' sguanito di video, qualcosa è uscito, ma ogni tanto, perché? Venerdì scorso sono andato a Lucca Comics, devo ringraziarvi perché siete in tantissimi, avevamo chiesto foto, ad aver voluto fare due chiacchiere, siete venuti in tantissimi, a raduno che ho fatto in Piazza San Michele il lunedì, insomma, ci sono state un sacco di attività interessanti che ho partecipato, è stata, secondo me, la miglior Lucca Comics da tanto tempo a questa parte, dal 2019 che non andavo, ed è stato un ritorno in bomba, devo dire, però questo mi ha tenuto lontano dai video per qualche giorno, avevo caricato giusto quello per Halloween, che è stato molto apprezzato, non l'aspettavo perché per i Fire comunque rimane un prodotto un po' più di nicchia, anche se inizia a essere già più chiacchierato, e poi sono tornato martedì sera sul Tardi, e mercoledì ho avuto un sacco di cose a fare, impegni di lavoro, eccetera, e giovedì sono partito per Madrid, sono partito per Madrid, per un evento di Agostini di cui vi parlerò nei prossimi giorni, sia su Instagram che sul canale, e sono tornato venerdì sera, sabato mi sono riposato, quindi eccomi qua a fare il video oggi, e mi dispiace perché il film di cui sto per parlare avrei voluto recensirlo all'uscita, solo che alle periodi di Lucca Comics non ho avuto proprio modo di registrare il video, per cui perdonatemi se vi porto la recensione così in ritardo, e anche tutte le altre cose che sono uscite le recupererò nel prossimo giorno, perché ad esempio non sono ancora riuscito ad andare a vedere Amsterdam al cinema, l'ultimo di David Russell, e lo andrò a vedere in questi giorni, quindi devo recuperare un po' di cose, devo guardare Nola Holmes, quindi con calma si recupera tutto. Allora, innanzitutto il film di cui voglio parlare lo stavo attendendo da tantissimo, e ho visto questo film alla premiere che hanno fatto a Lucca Comics, perché c'è stata la premiere, ho fatto l'attività con Bonelli, quindi ero lì a vederlo, e io sono un grande lettore del fumetto da cui il film è tratto, quindi per me era un sogno che lo avessero prodotto, lo aspettavo a tanto tempo, era stato annunciato nel 2018, poi è arrivato il Covid, e quindi è stato posticipato ed è uscito una decina di giorni fa. Mi riferisco a un film del 2022 per la regia di Riccardo Chemello, ed è Dampir, il primo tassello del cosiddetto Bonelli Cinematic Universe, la Sergio Bonelli Editore è una casa editrice che ha una tradizione ormai di 80 anni, perché il 2022 è l'anno dell'ottantesimo anniversario della Sergio Bonelli Editore, e tra l'altro già da qualche anno stanno portando dei crossover con alcuni personaggi della DC, casa editrice che è nata solo tre anni prima, quindi ci sta perfettamente che ci sia un crossover tra queste due case editrici, hanno fatto Dylan Dogg e Batman, Flash e Zagor, e Alucca hanno presentato Nathan Never Justice League, che vi consiglio di leggere perché secondo me è sensatissimo come crossover, è anche scritto e disegnato molto molto bene, è una gran bella storia, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Anche Flash e Zagor per me è totale, uno dice ma cosa c'entrano Flash e Zagor, come li metti insieme? Hanno trovato un modo perfetto per farli collaborare nonostante la differenza temporale e potreste trovare una storia interessantissima. Quindi io ero contentissimo quando ho scoperto che la Sergio Bonelli Editore aveva creato la Bonelli Entertainment, lo studio che produce per appunto film e serie tratte dai prodotti Bonelli, hanno presentato a Lucca anche Dragonero e i Paladini, serie animata per ragazzi che andano in onda sulla Rai. Non ho visto purtroppo le proiezioni di quella, non ho avuto proprio il tempo, però devo dire che sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che nello stesso momento presentassero un film e una serie, tutti i prodotti tratti dai loro fumetti. Per cui io ho detto non vedo l'ora di guardarlo proprio perché io sono cresciuto con Dampier, lo leggo da quando è uscito nei primi anni 2000, avevo 12 anni quando è uscito il primo numero ed è stato amore a prima vista. E quindi io sono andato a vedere il film con una grandissima voglia di divertirmi, in sala c'erano anche Stuart Martin che nel film interpreta Kuriak e David Morrissey che interpreta il villain Gorka. Ora, io il film lo sono goduto tantissimo perché da lettore del fumetto è stata un'emozione vedere il fumetto prendere vita. Io non sono uno di quelli che vuole la trasposizione uno a uno quando va a guardare un film tratto da un'opera originale. Certo che però quando vedo quell'opera che si anima in live action è normale che il cuore un po' mi batte. Con tutto che il film si prende alcune libertà ma è molto fedele al fumetto e ci sono delle scene che sono alcune vignette riprese pari pari. E lì sono proprio delle citazioni degli easter egg che io ho apprezzato alla follia. Se uno non è lettore del fumetto probabilmente vedrà questo film e penserà, sì, un film normale, niente di particolarmente eclatante però carino. È un film di genere e l'Italia ha bisogno di tornare al genere perché noi una volta eravamo fortissimi in questo. Negli anni 70, 80 e per buona parte dei 90 noi abbiamo dominato in tal senso. C'erano un sacco di film italiani che venivano però realizzati per sembrare film di altri paesi, film stranieri. Basti pensare anche solo agli spaghetti western di Sergio Leone che erano degli anni 60 addirittura. Ma non solo a quelli, un sacco di film poliziotteschi e non sono polizieschi, è poliziotteschi. È proprio il genere, il filone dei polizieschi all'italiana, si chiamavano poliziotteschi. Ma anche solo gli horror, i gialli all'italiana, ce ne sono tantissimi che a vederli sembravano film non italiani, in realtà lo erano assolutamente. E questo Dampier fa un po' quella cosa lì. È un film girato interamente con attori non italiani, in inglese, poi ridoppiato per il mercato italiano. Purtroppo Socca al Botteghino non sta andando molto bene, nel senso che la gente proprio non lo sta andando a vedere. E a me questo dispiace perché sento tantissime persone lamentarsi che in Italia non facciamo mai qualcosa di diverso. Che in Italia si fanno sempre gli stessi film, che poi non è del tutto vero, ci sono delle sperimentazioni che da anni perdurano. Però poi, quando esce un film effettivamente diverso dal solito, la gente non lo va a guardare. Ecco, allora lì mi chiedo poi perché ci si lamenti. Perché se io vedo anche solo una persona che non ha visto Dampier e mi fa questo discorso, mi incazzo. Perché magari uno dice, non sono riuscito a vederlo perché nel mio cinema non lo danno. Ma è stato distribuito abbastanza ampiamente. Quindi è proprio una questione che a molte persone probabilmente non sta interessando. Credo sia un film che potrebbe avere una certa fortuna nei mercati esteri. Io ad esempio penso che nel Regno Unito o in Germania e in Spagna è un film che potrebbe andare piuttosto bene. Spero arrivi anche in quei paesi. Comunque sia ha un budget di 15 milioni di euro che non sono pochi per l'Italia. Ma che non sono poi neanche così tanti se si pensa ad un film che mira anche ad altri mercati. Quindi io spero che vada bene in altri mercati in modo da stimolare la produzione di altri film tratti a fumetti bonelli che magari possono avere più successo. Perché forse Dampier è un fumetto un po' più sconosciuto alle nuove generazioni. Se lo ricordano quelli della mia età. Ha il suo pubblico. Però forse magari un progetto su D-Landog avrebbe avuto più presa. Però anni fa era stata annunciata la serie, sempre la Bonella Entertainment, coprodotta da James Wan su D-Landog che spero venga fatta. Spero che sia ancora in piedi come progetto. Sarei fatto che a me il film è divertito tantissimo. Mi ha divertito tanto perché allora è una storia secondo me interessante. Al fine si parla di vampiri. I vampiri come nel fumetto hanno un'estetica molto particolare. Sono tutti vestiti come dei panchettoni. A volte ricordano quasi dei cantanti metal. Quindi mi piace. Gli effetti visivi che da tanti hanno stati criticati e giudicati dal trailer non mi hanno assolutamente scontentato. Perché sì, in alcuni momenti forse non sono propriamente al top. Va bene. Però allo stesso tempo ci sono dei momenti in cui mi hanno convinto tantissimo. C'è un momento un po' alla It's Morb in Time. Quello è vero. Sul finale quell'effetto non mi ha fatto impazzire. Però ce ne sono altri che invece ho trovato estremamente credibili. Sicuramente meglio di prodotti con un certo budget come, faccio un esempio recente, Shulk. Cioè la serie di Shulk aveva un certo budget, gli effetti visivi facevano cagare. Molto meglio quelli di questo film, che comunque ha un budget di 15 milioni. Insomma, è una cosa diversa, ok? È un po' più contenuto eppure ha degli effetti visivi che non sono niente male. E poi a me è piaciuta molto la regia. Nel senso che il regista Riccardo Chemello è un esordiente dal punto di vista cinematografico. Però è una persona che ha una certa esperienza per quanto riguarda il videomaking. Quindi aveva già diretto qualche videoclip musicale. Per cui si è cimentato in qualcosa di più grande. E secondo me ce l'ha fatta perché per essere un'opera prima ha una regia molto buona. Ci sono magari alcuni combattimenti in cui si perdono certi movimenti e c'è un po' di confusione. Anche perché è un film ambientato per lo più tutto di notte. In quanto i vampiri giustamente di giorno non ci sono. A parte, vabbè, Gork che però è un maestro della notte. Quindi non teme la luce del sole. Ma per il resto, secondo me, è una regia che è anche, come direbbe Stanislaw Rochelle, molto poco italiana. Non ha la fisionomia del film italiano. E secondo me sono riusciti anche a creare delle atmosfere horror piuttosto convincenti. Il setting, l'ambientazione è forse la cosa più interessante del film. Perché hanno avuto il coraggio di lasciare l'ambientazione del fumetto che ha ambientato durante la guerra dei Balcani nei primi anni 90. E voi direte, vabbè, cosa dobbiamo fare? Ambientare le giorni nostri? Secondo me altre produzioni lo avrebbero fatto. Nel senso che è una guerra, quella dei Balcani, che è piuttosto distante nella memoria delle persone. Io me la ricordo perché ero piccolo, ma mi ricordavo i miei che la seguivano al notiziario. Io mi ricordo i filmati dei bombardamenti, mi sono rimasti impressi. Quindi è qualcosa che magari le nuove generazioni non si ricordano, ma che quelli della mia età avranno nella memoria. Per cui il fatto che sia un qualcosa di così distante, soprattutto nella memoria dei più giovani, che non l'hanno proprio vissuta neanche passivamente guardando i notiziari, potrebbe risultare un po' sconosciuto. E invece per me funziona tantissimo. Hanno avuto le palle di non cambiare il setting, perché era forse una delle cose più caratteristiche di Dampir. E hanno fatto molto bene, perché qui proprio l'atmosfera di guerra, la sofferenza delle persone si sente tantissimo. E per quanto mi riguarda hanno fatto un ottimo lavoro anche con le scenografie, che sono realizzate veramente con tutti i crismi. Ma la cosa che ha colpito di più me è la caratterizzazione dei tre personaggi protagonisti. Perché era uno dei motivi per cui io seguivo il fumetto. Mi piacevano tanto loro e, oltretutto, siccome i fumetti Bonelli vivono molto di storie autoconclusive, per quanto Dampir avesse una trama orizzontale che era più presente rispetto in altri fumetti sempre della Bonelli, ogni tanto c'erano delle storie in cui non c'era magari uno dei personaggi perché stava facendo qualcos'altro, c'erano solo due, c'erano solo uno, per cui bisognava creare un legame solido tra i tre al punto che se dovessero fare qualche altro film, magari sempre su Dampir, e magari uno dei personaggi si è leggermente messo da parte perché sta facendo qualcos'altro, ti deve mancare, capito? Cioè io finisco di guardare Dampir e penso, cavolo, loro mi sono piaciuti un sacco. Io avevo qualche piccolo dubbio su Wade Briggs, che secondo me non era poi così somigliante al personaggio dei fumetti, che interpreta proprio Dampir, e che invece è stato bravissimo anche perché la sceneggiatura, che è stata scritta da alcuni autori bonelli, tra cui anche buon Mauro Ruzzeo, secondo me coglie proprio il punto perché è simpatico ma anche molto tormentato. L'attore se l'è cavata molto bene, è riuscito a interpretarlo nel modo giusto e mi è entrato nel cuore. Mi è piaciuta Tesla, interpretata Frida Gustafsson, che è il, diciamo, il vampiro ribelle. Ecco, su di lei mi sarebbe piaciuto avere un piccolo focus in più, perché è tratto dai primi tre, quattro numeri, questo film, del fumetto, e lì c'era un minimo di approfondimento in più su Tesla, che mi sarebbe piaciuto vedere anche nel film, ma non perché io mi lamenti per il fatto che in questa cosa non sono stati del tutto fedeli, semplicemente non hanno trovato il tempo, ed è un peccato perché a me Tesla piace tanto, qui rende, ma forse spiegando un attimino in più la sua storia, che è molto affascinante, avremmo capito meglio le sue ragioni. Sono riusciti comunque a farti comprendere perché fa quello che fa, e ci sta, però, secondo me, con una o due scene in più in flashback, il personaggio sarebbe risultato un po' più quadrato, un po' più, secondo me, incisivo. Però, va bene anche così, comunque l'attrice è d'aspetto identica, cioè, quello che bisogna dire è che loro tre sono... A parte Wade Briggs, che sulle prime lo identificavo un po' poco a livello di aspetto con Dampier, e poi però, andando avanti, era lui fatto e finito, anche perché era molto bravo nell'interpretazione, gli altri due, Tesla e Kuriak, sono perfetti, perché Stuart Martin, che è un po' l'MVP di questo film, è stato bravissimo, il suo Kuriak è un personaggio interessantissimo, un soldato con una tragedia alle spalle, che deve iniziare a tradire piano piano i propri principi, perché lui è una persona estremamente pragmatica, però non riesce a credere a quello che vede, perché una cosa che mi fa piacere di questa storia è che i vampiri non sono noti nel mondo, cioè le persone non credono ai vampiri, per cui quando queste creature compaiono, le persone si cagano addosso perché credevano solo che fossero delle leggende. Poi mi è piaciuto il rapporto tra Arlan e Yuri, che è un po' diverso rispetto a come nel fumetto, e qui apprezzo, perché mi va bene che ci sia una certa fedeltà, ma è anche bello quando si rielabora qualcosa. Ripeto, a me la trasposizione uno a uno può anche farmi piacere, perché è bello prendere vita un'opera, però ho già il fumetto per quello, capito? Quindi se qualche cosa me la cambi in maniera sensata, io sono anche più contento, perché mi emoziono ritrovando la trasposizione del fumetto, ma vedendo anche qualcosa di nuovo. Era un po' quello che volevo. E quindi sono stati molto bravi nella caratterizzazione dei personaggi, anche Gorka. Ho sentito dire da alcuni che è, ma Gorka è un villain non proprio caratterizzato. C'è anche da dire che Gorka, anche nel fumetto, era un villain introduttivo. Non è il massimo villain che si trova in Dampir, per cui era quello che doveva far partire il motore della trama, la prima minaccia che viene incontrata, per cui ci sta che non abbia questa grande caratterizzazione. È un vampiro cattivo, è un maestro della notte, cioè il cazzo più lungo degli altri, e David Morris è stato abbastanza bravo. David Morris, non so se lo conoscete, ma penso di sì, è un attore inglese molto capace, per il grande pubblico sarà sempre il governatore in The Walking Dead. Nelle prime stagioni il governatore era lui, ha fatto anche un paio di puntate di Doctor Who, è un attore magari non tra i più conosciuti in assoluto, però è un bravo attore di teatro, è un nome comunque noto, ecco. Per cui mi ha fatto piacere vederlo nei panni di Gorka, e alla fine Gorka è un villain di presenza, sembra Ozzy Osbourne sotto acidi, è spietato, non si fa problemi a ammazzare donne e bambini ad assoggettare i vampiri che crea, per cui in realtà era un villain che fa il suo, un villain che fa esattamente quello che ci si aspettava da quel villain, però a livello di presenza a me non è dispiaciuto. Ripeto, nei fumetti è stato creato per somigliare a Ozzy Osbourne, e qua sembra Ozzy Osbourne, viscidissimo, manipolatore, mi è piaciuto. Diversissimo rispetto agli altri vampiri che vediamo, che sono dei vampiri ovviamente più terra-terra, non sono dei maestri della notte, sono degli scagnozzi, e quindi sono molto più, diciamo, sgargianti, anche molto più smargiazzi, per usare un termine che usava mio nonno, per cui ci sta, a me Gorka è piaciuto, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo da Gorka, perché comunque, ripeto, avendo letto il fumetto, sapevo cosa poteva aspettarmi dal personaggio, non mi aspettavo questo villain incredibilmente approfondito, è uno stronzo, è cattivo, è per questo che però dicevo che avrei approfondito di più la storia di Tesla, perché Gorka fa più parte della storia di lei, cioè è lei essere legata a doppio filo a Gorka. Arlan Draca, cioè il Dampir, e infine alla fine della fiera si trova Gorka davanti alla strada, perché Gorka, diciamo, che aveva dei rapporti non proprio placidi con il padre, e quindi ci sta. Però è molto bello, perché poi alla fine del film, non c'è propriamente una post-credit, perché secondo me hanno pensato che al pubblico italiano, soprattutto, dovesse ancora entrare in testa che stavano guardando un cinecomic, perché ormai, per il grande pubblico, il cinecomic sono solo i film tratti da fumetti supereroistici, quando in realtà con il termine cinecomico, cinefumetto, si intende semplicemente un fumetto, non importa di che tipo, che diventa film. Per cui probabilmente hanno pensato, se mettiamo la scena dopo i titoli di coda, magari la gente non capisce che deve rimanere e se ne va, perché non è un film supereroistico, già se qualcuno va a vedere un film sui supereroi, anche se non è della Marvel, sa che potrebbe esserci la scena post-credit. Per cui ci sono i primissimi titoli di coda, e poi parte subito una scena mid-credit, chiamiamola, che mi ha fatto venire voglia di vedere un futuro film. Cioè nel senso, questo film è chiaramente il tentativo di lanciare, non solo un universo, ma anche una serie di film su Dampier. Poi magari potrebbe uscire un film su un altro personaggio Bonelli, e c'è un collegamento. Certo, è anche più difficile collegare i fumetti Bonelli, perché sono tutti ambientati teoricamente in universi differenti, anche in epoche diverse. Non sarebbe facile, che so, fare un crossover tra Dampier e Tex. Uno è nel West, quest'altro è negli anni 90, del Novecento, quindi non sarebbe facile, ma i modi volendo ci sono. Poi, secondo il mio modesto punto di vista, è più facile collegare un Dampier a D-Land Dog, se proprio vogliamo stare a guardare. Infatti, se il progetto rimane in piedi come spero, e dovessero fare la serie su D-Land Dog, non mi stupirebbe vedere un cameo di Dampier, un cameo di Arlan, Arlan Draca, sarebbe molto figo, perché comunque l'universo, prima o poi lo vai a comporre. Quindi, c'è questa scena mid-credit, vi consiglio di guardarla, che è importante per un eventuale seguito, e poi io sono rimasto estasiato dal logo della Bonelli Entertainment, che c'è all'inizio del film, che è un po' come il logo dei Marvel Studios, ma ha una sua fortissima identità. È un logo animato che ti, diciamo, a me ha fatto venire la pelle d'occa, ma ti riassume 80 anni di storia Bonelli nel giro di pochi secondi, con una musica che non è un semplice scimmiottamento di quella del logo di Marvel Studios. Secondo me è un logo fantastico, c'è proprio orgoglio nazionale. Io ero lì che lo guardavo e gli dicevo oh, che cazzo, vai! Per cui, Dampier è un film che a me è piaciuto tanto. Capisco che ha i suoi difetti, ad esempio, nel terzo atto, secondo me, diventa tutto un filino ripetitivo e anche un po' troppo veloce, un po' quasi buttato lì, con un combattimento finale che poteva essere gestito meglio, però che comunque non mi è dispiaciuto. Cioè, è molto solenne. Mi è piaciuto, ma riconosco che nel terzo atto mettono il turbo e forse vanno anche un po' troppo veloci, mentre nei primi due atti forse sono andati anche troppo lenti rispetto a come sono andati nell'ultimo. Però, a me, la cosa non ha dato propriamente fastidio e in generale è un film che, per l'amor del cielo, non sarà tra i migliori che ho visto quest'anno, però a livello di emozioni mi ha dato tanto. Cioè, io era da una vita, erano da quattro anni che stavo aspettando sto cazzo di film su Dampier, me l'hanno dato e per me è stato un film veramente ben realizzato. Era anche più di quello che mi sarei aspettato. Devo essere sincero, io l'ho proprio trovato interessante con delle belle scene action, anche i personaggi secondari comunque hanno una loro caratterizzazione tipo Yuri. Non è che sia questo personaggio particolarmente approfondito, però è interessante perché alla fine la sua unica funzione era avere il legame con Arlan e arrivare a un certo momento. Quindi ci sta perfettamente. i soldati di Curia avevano solo lo scopo di dare una nuova prospettiva al loro comandante su come funzionano certe cose. Per cui, da questo punto di vista l'ho trovato interessante. Mi sembra piaciuto vederlo un pochino più politico come il fumetto, ma per questo c'è tempo in altri film. C'è anche da dire che è un film di origini. Quindi dovevano presentarti personaggi, presentarti il villain, presentarti in una situazione più ampia, forse mettere subito un sottotesto politico che peraltro è qualcosa che va molto a braccetto con le storie di vampiri spesso, non era una cosa facile. Rischiavi di mettere troppa carne a fuoco quindi hanno puntato su qualcosa di un pochino più semplice, ma che secondo me è visivamente efficace. Anche le trasformazioni dei vampiri quando vanno in assetto di guerra, a livello di effetti secondo me siamo su dei livelli molto buoni. Non solo, anche la fotografia l'ho trovata veramente calzante e le musiche, le musiche mi sono piaciute veramente tanto e dovete considerare che a parte gli attori è un prodotto tutto italiano dalla produzione a chi ha scritto la sceneggiatura alle maestranze quindi regia, direzione a fotografia, composizione delle musiche. È un prodotto nostro, è un prodotto totalmente italiano e francamente che l'Italia sforni un film del genere che lo vedi e non ti sembra minimamente italiano, secondo me è qualcosa di grosso perché non veniva fatto in questo modo da tanto tempo non solo, non è un film qualunque, è un film di genere. Cazzo, l'Italia che dopo tanti anni ti torna al genere lavorando esattamente come si faceva in passato, il cast internazionale, il girato in inglese, poi il doppiato, non è assolutamente qualcosa di scontato, porca miseria. io apprezzo quei progetti che non hanno rinnegato l'italianità del prodotto, mi faceva piacere perché c'è stata questa wave di prodotti che non volevano sembrare stranieri ma che erano orgogliosamente italiani ma diverse rispetto alla media dei film prodotti nel nostro paese. Però il fatto che si torni al genere con un film realizzato alla maniera di tanti anni fa è qualcosa che mi fa altrettanto piacere perché caspita io vedo Dampier e dico oh e lo vedi che in Italia si può fare qualcosa con un buon budget con professionisti che hanno messo il cuore e l'impegno perché poi tutto il team Bonelli ci ha lavorato le altre sfere di Bonelli si sono messe in gioco per questo film ci hanno lavorato degli autori della sceneggiatura poi abbiamo fatto un'intervista su Canale Cultura Pop qualche giorno fa con gli autori che dicevano che lavoravano con il primo numero del fumetto di Dampier sempre in mano per rievocare alcune vignette dicevano che gli attori erano entusiasti quindi c'è stato tanto cuore in questo progetto e tutti quelli che ci hanno lavorato lo hanno amato per cui secondo me sarebbe da guardare se non avete ancora visto Dampier mettete da parte la classica diffidenza che si apre il cinema italiano che per me è una cosa bruttissima quando la gente molte persone quando sentono parlare di un film italiano non lo vado a vedere allora se vi consola non sembra un film italiano ma poi voglio dire anche se lo sembrasse ma qual è il problema cioè bisogna avere fiducia nel cinema nostrano quando si fanno cose diverse rispetto al solito perché altrimenti poi è inutile lamentarsi di eh ma l'Italia con il cinema fa cacare no non è vero noi abbiamo la voglia i mezzi e i talenti per fare qualcosa di buono però quando questi film escono magari andiamoli a vedere perché altrimenti poi non ha senso che ci si lamenti perché se ti lamenti vuol dire cioè se ti lamenti e non hai visto il film per tua scelta allora vuol dire che sei un po' parte del problema perché tu ti lamenti di qualcosa a cui tu hai contribuito allora andiamola a vedere sto film no? che è un film cazzo interessantissimo con i suoi difetti eh per l'amor di Dio perché è un film che li ha i difetti non è il film più bello della storia però insomma come film horror fantasy secondo me ci sta ci sta rispetto a molto il fumetto che ha una storia bellissima infatti c'era una base solida su cui poggiare si vede perfettamente per cui secondo me è stato fatto veramente un ottimo lavoro per cui il mio consiglio è andate a vedere Dumpir così potete ammirare anche l'interpretazione di Wade Brickstor Martin e Frida Gustafsson di David Morris per me è un film che ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare come starting point per un universo cinematografico nostrano è un ottimo punto di partenza io mi auguro che tengo nel piede del progetto nonostante in Italia magari questo film abbia avuto risultati sotto le aspettative ma tanto poi credo che con l'uscita negli altri paesi si vada a recuperare tranquillamente la cifra penso che quello non sia un grosso problema e infatti comunque so che i vari progetti sono ancora in piedi per cui io mi auguro che rimangano e che ci siano nuovi film del cosiddetto Bonelli Cinematic Universe perché cazzo io sto universo lo voglio vedere e sarebbe bello avere un universo del genere che tiene banco non solo da noi ma anche in altre parti del mondo questo sarebbe proprio una cosa di cui andare orgogliosi ragazzi quindi sarebbe veramente bello per cui fatemi sapere cosa ne pensate voi se avete visto il film vi è piaciuto non vi è piaciuto fatemi sapere discutiamone io vi abbraccio vi ringrazio infinemente grazie noi ci vediamo al prossimo se il film non lo avete visto se invece il film non lo avete visto e avete saputo nello specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora innanzitutto io ho apprezzato tantissimo tutta la prima parte in cui ti presentano i personaggi quindi Kuriak che è il comandante di questa guarnigione di soldati che arrivano a Iorvola che è questa cittadina nei Balcani e trovano per l'appunto la popolazione completamente massacrata e si capisce che c'è qualcosa che non va perché c'è questo vecchio che lì c'è stato il diavolo chiamato il Dampier quindi vediamo il Dampier Arlan Draca con Yuri il suo fido assistente che fingono di essere Arlan questo Dampier cioè il figlio di un maestro della notte un vampiro e di un'umana in grado di uccidere demoni vampiri e quant'altro ma sono due truffatori cercano di sbagliare l'unario si fanno pagare con offerte di cibo e danno un po' di tranquillità alle persone scaramanti che insomma loro non fanno nulla di male anzi dal loro punto di vista non fanno altro che tranquillizzare delle persone che credono in qualcosa di sovranaturale e alla fine non chiedono niente di più che un po' di cibo quindi in realtà non è che non è che siano dei truffatori cattivi di base aiutano anche delle persone a lasciarsi alle spalle certe superstizioni che li stanno facendo star male in un certo senso poi vabbè però c'è anche tutta la parte quella proprio che introduce il film che spiega che cos'è un dumpier vediamo la madre di Arlan che nel darlo la luce muore c'è il padre Draca che è un maestro della notte che lo vuole e quando le strade di loro si incrociano vediamo Tesla che è una vampira che non vorrebbe stare al servizio di Gorka e anche qui nei fumetti spiegano un po' meglio come Gorka l'abbia erretita che cosa le abbia fatto per cui da quel punto di vista secondo me si poteva raccontare qualcosina in più non è detto che non lo facciano in un eventuale prossimo film quindi entra in gioco Gorka che da quello che ci dicono ha un trascorso con Draca il padre di di Arlan e il padre di Arlan ha lasciato il figlio in vita proprio perché evidentemente voleva muovere guerra altri maestri della notte perché il dumpier è l'unico che possa uccidere i vampiri tanto i vampiri di basso legnaggio quanto i maestri della notte e Gorka quindi lo vuole ammazzare lo vuole uccidere proprio perché è pericoloso e infatti alla fine Arlan ucciderà Gorka la parte con Yuri mi è piaciuta tantissimo anche lì è un po' diversa la fumetta e per questo mi è piaciuta poi tutto l'ultimo atto è un po' troppo veloce anche la scena dove c'è il soldato della guarnigione Kuryak quello stronzo che inizia a dar fuoco a Tesla che cerca di dar fuoco a Kuryak e poi i due gli danno fuoco non è che si capisce non è che ti fanno vedere questo che muore questo scappa in fiamme e non lo vediamo più fammi vedere qualcosina in più però poi ci sono altri momenti ad esempio quando iniziano a usare il sangue di Arlan imbevendovi i proiettili per creare delle armi che uccide i vampiri mi è piaciuto un sacco perché quella parte lì peraltro anche l'effetto di scioglimento da parte del sangue dei vari vampiri è fatto molto bene a livello di effetti visivi poi ci sono effetti che mi hanno convinto come quello alla fine con Gorka che si trasforma che è un po' alla Morbius su quello siamo tutti d'accordo poi è un po' troppo improvviso forse potevano farlo diversamente però queste sono piccolezze rispetto al resto del film che secondo me è molto coerente con se stesso ha dei momenti che io ho trovato interessanti anche il momento di bonding tra Kuryak ed Ampere dopo che Tesla gli spara il momento in cui Tesla cerca di ribellarsi e salva la ragazza che viene assalita da uno dei vampiri ma poi interviene Gorka tutta quella parte lì è interessante perché è un minimo di approfondimento dei personaggi il momento in cui si parla di Kuryak e della moglie del figlio che sono stati uccisi e per questo lui ha ormai una visione particolare della guerra il momento in cui arriva in una città che è chiaramente Sarajevo anche se non non è che lo dicono esplicitamente con le persone spaventate che si raccolgono sotto al ponte nei campi nessuno che gli aiuta una guerra in cui non vediamo neanche a parte la guardigione dei soldati di Kuryak chi la sta combattendo come se fosse una sorta di mostro autonomo in cui naturalmente i vampiri e soprattutto Gorka sguazzano perché dove c'è la guerra c'è la morte c'è la carne c'è il sangue il nutrimento per i vampiri quindi è secondo me realizzato tutto molto bene ad esempio a me sarebbe piaciuto vedere magari il ruolo che ha Gorka nella guerra mi sarebbe piaciuto vederlo non l'hanno messo perché come ho detto prima troppa carne al fuoco troppa carne al fuoco però ad esempio il finale con Arlan che abbraccia il suo reale potere di Dampir e riesce a uccidere Gorka e poi c'è la mid credit con le tre donne che sono un po' le tre parche diciamo che hanno accudito Arlan che vedono Draca e dicono lui ha scelto il suo potere ma non ha scelto te e Draca che dice beh vorrà dire che dovrò convincerlo a scegliere me è solo l'inizio quindi ti fa capire che è l'inizio della storia con loro tre che dicono questi vampiri ce ne sono molti altri non hanno idea di che cosa hanno scatenato questo è solo l'inizio quindi da una parte loro che dicono è solo l'inizio dall'altra parte Draca che dice è solo l'inizio quindi si capisce che se dovessero andare avanti con questi film la storia è molto più ampia rispetto a quello che si potrebbe pensare a me non so voi ma ha fatto venire una voglia fottuta di vedere un secondo capitolo perché davvero io quando ho visto cosa hanno fatto ho pensato cavolo è un bel film di genere con delle tinte horror ma non troppo molto action con dei momenti che sconfinano nel fantasy a me una cosa del genere piace uno perché comunque è la storia del fumetto che come ho detto a me piace tanto quindi vederla messa in scena così fedelmente pur con qualche piccola libertà è qualcosa che mi ha emozionato ma poi penso anche al fatto che non ci sono tanti film di questo tipo sui vampiri cioè come storia sui vampiri per me non è male poi per l'amor del cielo se uno non conosce il fumetto dice ma è una cosa come un'altra però è fatta bene cioè è realizzata con un minimo di coerenza non è troppo complessa però i personaggi sono accattivanti cioè sono anche una combinazione improbabile un dumpier una vampira e un soldato è un po' strano perché anche nel fumetto sapeva di bizzarro come capito come 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 formazione eppure funzionava e infatti funziona anche in questo film cioè per me funziona perfettamente vedere loro che sono uno che ammazza i vampiri che gira con una vampira e con un soldato che però ormai ha iniziato a maturare una visione della guerra diversa rispetto a quella che aveva prima perché ha visto i suoi commilitoni comportarsi come delle bestie col tizio che ammazza il vecchio spaventato così per divertimento ride mentre lo fa ride quando viene preso a calci cioè proprio uno stronzo poi c'è anche tutta la parte quando sono chiusi nella chiesa con Tesla che spiega che lei è stata rapita uccisa e trasformata da Gorka ma lei detesta quello che Gorka le fa fare perché Gorka le ordina di farsi amici loro però lei inizia a dire io non voglio fare quello che Gorka vuole ma non posso evitare di farlo Tesla nel fumetto ha un percorso molto interessante per cui io vi dico capisco che non sta andando bene al botteghino italiano ma spero in qualcosa di un po' più ampio per il mercato internazionale perché porca miseria io voglio vedere un secondo capitolo di Dampier voglio vedere la serie su Dylan Dog e tutti gli altri progetti che hanno in mente perché comunque con la Bonelli puoi fare veramente un sacco di cose ci non posso immaginare se dovessero mai fare un film o una serie su Nathan Never ci vorrebbe un bel budget perché è praticamente ispirato a Blade Runner delle ambientazioni nel suo essere molto cyberpunk quindi non sarebbe facile ci vorrebbe già una solidità del progetto che permetta di arrivare a quel punto però sarebbe bello se questo accadesse spero che il pubblico possa dare più fiducia in futuro perché sarebbe un vero cazzo di peccato se questo non accadesse perché il potenziale è enorme è altissimo quindi vedremo cosa succederà a me personalmente il film comunque è piaciuto per cui fatemi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi io vi abbraccio vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo al prossimo un buon vlog ciao a tutti grazie a tutti